Aspettiamo agosto per vedere quello che ci sarà in programma, sarà un po' difficile per noi affrontare la seconda teoria così come siamo con i giocatori che abbiamo, però possiamo tentare. E per questo torneo parteciperà tutta la squadra che ha fatto il campionato? Sì, quasi tutta, più 3-4 prestiti da paesini limitrofi tipo Pedalino dove abbiamo qui il Salemi che è un ragazzo che conosco e quindi me lo sto portando via molto volentieri. Come è organizzato questo torneo che si farà? A Clermont si gioca? No, si giocherà in un paesino vicino a Clermont e saranno quattro squadre francesi gemellate con altre quattro tra le quali una belga, una tedesca e un'altra italiana di Cuneo. E penso che sia fatto come ultimamente si fanno a livello di Serie A. I 45 minuti per squadra ecco e chi avrà totalizzato il mio maggior numero di vittorie o pareggi ecco accederà alla finale. Come ti appresti a vivere questa esperienza in Francia? Sei già stato all'estero altre volte? Sì, sono stato in altre parti, Inghilterra, Spagna, ma no. Non per giocare, questa è la prima volta. Questa è la prima volta, molto interessante comunque, l'ho accettato subito. Inghilterra, Spagna, 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 Spagna. Spagna, 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 Spagna. Spagna, 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 Spagna. Spagna, 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 Spagna. Spagna, 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 Spagna. la fantastica c'erano chiedere controllo e dicono per sera va bene domani non si riescono a ciò e quindi ora dovete aspettare che vi fanno il nuovo tesserino se no ora diciamo che è andato a un nuovo tesserino e un nuovo tesserino diciamo che ancora è a Palermo e non c'è nessuno perciò c'è una storia che c'è una pigliata per fissa per tutta la popolazione mi pare che siamo come che stai facendo un'aula di seri di Stapalora come è piacere senza procurare siamo una volta sì, una volta no, una volta bene, una volta non meno io bene quando fumo io c'è una cosa io abitavo in Andà, per me mi hanno fatto un piacere se non è un ruolo non è meglio io me lo vado a pericolo e pericolo non ho pesato, non ho pesato, però mi sento meglio di camminare me ne fanno l'autobus io non voglio fare, l'autobus però che non c'è la stessa cosa hanno a pagare le stesse, non voglio fare c'è niente e camminiamo a pericolo avanti a sera, a Noritto, proprio andate a piazza delle stazioni che c'è un ruolo controllore per sera circolate, domani non potete circolare sapete? E chi stava a diventare? E io era da ognuno ma c'è ora come si stava ne fanno fatte noi sono largo fino a 20 e invece mi fanno scendere da un capo ma se no mi vanno a pagare mi vanno a far pagare passare per esempio a un ruolo comune e ancora c'era la carta fissata a Dani che si poteva camminare poi per se no c'è la luogna lo prende perché sa che non si può circolare e mi hanno fatto al piede, ma noi ci mettono 600 dollari di biglietti e cammino è finita la festa perché hanno fatto tutte queste pallacciate, si, no si cammina, non si cammina e allora che ci vanno a fare? Io cammino e allora ci mettono 600 dollari ogni amore e cammino è giusto? è inutile che stiamo a cogliere questa lamosa a Natale però quando? mi dicevo ci vuole le fotografie ora ma per che servono le fotografie? no, per che cosa servono? quando io e la mia amica è nata sono io o non sono io? chi è una trappare c'è per guadagnare i soldi di fotografie 8 monate anche loro devono campare, è giusto però una volta io non ho fatto le fotografie poi lo guardo ora mi girano a destra e a sinistra mi prendono in gira il popolo a ieri mi trovai a girare la stazione ho ritorno a girare la macchina ho ritorno non sapendo è fortuna che non mi incontrò nulla non c'è niente non c'è niente grazie che nasce franca nasce e non c'è niente non c'è niente tutti i cittadini siamo in tutto il paese non abbiamo bisogno uno uno non abbiamo bisogno per gli altri no, lui è sfottenza il popolo io penso che questo penso penso che è una sfottenza su piaccia che c'è però quello urbano a lei le serve? per forza le serve le serve perché ci sta va ci sta forza viene a mancare non c'è niente le serve la cosa si comporta riccagire la frate mia ah 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 si fanno tutti queste ucarine una volta sì una volta no io riuscire a quel luogo c'è niente abitare a Marietta inesca non c'è niente mi sento non c'è niente chi dica sono lontano si hanno fatto abbonamento e poi non c'è niente l'autobus c'è niente la stessa cosa ripagherà la stessa cosa E non hanno fatto questa bupazzata, una volta sì, una volta no. Ma come ragioniamo? Ma che ragioniamo? Sono vicino, però quanto mi serve lo prendo per canno. Perché fanno sì e no. Un'altra cosa ci volevo dire, io avevo sei o tre mesi che c'è una lampadina nella mia che fanno un rumore che non si può dormire, è proprio al nord. E dove si trova? Via Regalia, a 121. Io ho fatto tre o quattro viaggi di cane. Lei nella merita di cavallo comune che si è lampadina. E lui venne qua, venne, non ne abbiamo visto nulla, io pigliato l'appunto. Anche ha parlato con il sindaco, con il sindaco che diventavo come l'altro per piacere. E' proprio così. Ma il sindaco cosa gli ha detto? Dicevamo a riparare, perché è guai, stava, è guai, stava a fare rumore che non si può dormire. Ora venne uno, è stato a Marina, malato e non può dormire. Penso che deve essere malato, è meschino, va, che non si può dormire. Ora il sindaco diceva sì e no, ma che? Magari io è diventato fasullo. Ma allora se non fanno passare il sindaco? Ma che si è messo a fare? Ha visto passare il sindaco, ma io ci ha parlato di ruota. Sì, romana, stasumana, 15 a noi, 18 a noi, a ieri romana. E sempre siamo una pagliacciata. Carra, ora siamo comandati. Che lo vanno i pagliacci e non arrestano. Non arrestano. Ma come fanno? A ieri fanno il tribunale e danno che io mi abbia il resto di pagliacci che si è buttato, che viene a fare, a intervistarlo, che viene a fare. E non fanno niente. E non fanno niente, è quel nodo. Sono pochi pagliacci, ero primo fino all'orto. Ora perché non è bene aggiustare questa lambatina. La prossima Allora and'. Allora Grazie a tutti.